Salve a tutti carissimi ragazzuoli, io sono Francesco Angerillo e benvenuti in questo nuovo video caccia onastico Da come in questione che oggi sono a maniche corte, è arrivata la primavera E oggi ragazzi abbiamo due uova in tema della leone, ovvero leone non è il figlio di Fedez Ma in realtà la marca della palestra, perché è ideale una maglietta maniche corte per fare palestra Oggi ragazzi le sorprese sono in questione 3 L'asciugamano che è al posto di portarmi quelli da casa, che in realtà metto l'asciugamano della leone che in verità è mio Poi la borsa marsupio che qua ci metto l'iPhone e la sacca gialla della leone che ci metto i combiti quando andrò alla scuola Oggi ragazzi, siccome che sto riprendendo il telefono qua perché sta un altro uovo di Pasqua che in realtà sono dei miei Oggi andiamo ad aprire questi della leone, perché in verità non è ancora finita qui A casa della mia nonnina c'è l'uovo di Pasqua della Stranger Things della Kinder Fare uno YouTube short o vi fare un video? Ok, comunque non perdiamo altro tempo e iniziamo ad aprire le uova di Pasqua del mitico leone Bene, partiamo con la prima uova di Pasqua della leone In verità mi sembra che è troppo grande, in verità se la carta copre tutto Bene, togliamo la carta e togliamo anche il filo attorciato nell'uovo di Pasqua Bene, in verità l'uovo di Pasqua non lo apro con il cuo e tutto Ma oggi ragazzi è proprio qui il nostro uovo di Pasqua, ben grosso grosso E indovinate, indovinate come lo apro secondo voi Mmm, buonissimo Cominiamo ad aprire E c'è uscita Il... è la borsetta a tracolla ragazzi, è la borsetta a tracolla Questa qui con la zip gialla Ragazzi è uscita la borsa a tracolla, non ho parole Con la scritta leone, ideale per mettere il mio iPhone In caso se vado a fare un'escursione Ho un tipico di vacanza Ma ora ragazzi apriamo la sorpresa Ma sentite ragazzi, ma sembra che qualcuno l'ha fatta indorcigliare a che sia, che sia, che sia, che io non so aprire Vada per l'altro Pasqualone della leone Allora, apriamo anche quest'altro per vedere che cosa ci esce Magari Non so che cosa mi capiterà Mi capiterà o la sacca o l'asciugamano Vabbè L'altro di pasta lo apro come se fossi aprendo l'uovo fin Ovvero qua Un'altra borsa a tracolla Ma non ho parole Mi avete truffato allora Due doppioni Ma non ho parole Cioè raga, due doppioni Quindi allora raga, lo sai che cosa farò? Una borsa a tracolla È mia E l'altra borsa a tracolla Facciamo che va là Mi serve quando esco e la porto da scuola Comunque raga, ho formato il guscio di calimero di cioccolata Bene ragazzi Ora ci mangiamo un po' di cioccolata raga Alla salute Bene ragazzi Anche questo video si conclude qui Queste sono due sorprese doppioni Ma comunque vabbè Quindi faremo che questa la porto da scuola Che in sicurezza ci mette il telefono E quest'altra La porto quando vado a fare una passeggiata Noi come sempre ci vediamo la prossima volta Ciao ciao